Amici, c'è un giovane batterista, Cristian, piemontese, ventenne, che mi ha scritto ieri, mi chiede quali spazzolisti ascoltare, in quali dischi. Volentieri, adesso faccio un breve elenco, faccio prima una premessa. La Jazz Drama Academy, che come sapete è questo gruppo Facebook, con questa rubrica, la pagina Facebook dove trovate tutte le lezioni gratuiti, i pdf da scaricare, i dischi della settimana e bla bla bla, e bla bla bla, tutto quanto serve anche a promuovere l'Academy Premium, che è il corso vero e proprio, quello acquistabile, online. Questo perché ve lo dico? Perché chiaramente anche nella sezione spazzole di quel corso online io parlo dettagliatamente di tutto, non solo la didattica, ma anche chi ascoltare, nei vari stili, consigli tecnici, meccanici, filosofici, eccetera eccetera. Va bene, chiusa la parentesi, era per correttezza anche nei confronti del produttore, che poi vedrà questi video, e mi dice, ma scusa, se nella rubrica gratuita ti dici tutto, allora ti denunzio. Va bene, allora, fatto ciò, con la coscienza a posto, allora, attenzione, spazzolisti. Shelley Man, Shelley Man nei dischi col gruppo a suo nome, Shelley Man and His Man, ma ancora meglio sono i dischi in trio con André Pravin e Red Mitchell, capolavori. Poi Ed Thickpen, naturalmente, nei dischi di Oscar Peterson. Beccatevi, Vernel Fournier, nei dischi in trio con Ama Jamal. Beh, ragazzi, questi sono i miei tre eroi, però in realtà Papa Joe Jones, Jim Krupa, Buddy Rich, Louis Belson, Philly Joe Jones, insospettabilmente ci sono delle registrazioni, che non vi so indicare perché non mi ricordo in che dischi sono, di Elvin Jones e di Tony Williams con le spazzole, che suonano, che non direste mai che sono loro. È chiaro che nella storia tutti i grandi suonavano bene anche con le spazzole. Nelle generazioni più moderne sicuramente Louis Nash, Kenny Washington, e poi Jeff Hamilton, Jeff Hamilton nei dischi in trio con Monty Alexander o nel trio di Ray Brown. E insomma, potete beccarvene tante. Ah, se permettete, anch'io con le spazzole, non perché mi paragono a questi giganti, ma insomma, voglio dire, la rubrica è mia, posso anche pubblicizzare qualcosa di mio, no? Io con le spazzole ci ho investito una vita, ho fatto una valanga di dischi, anche molto carini, con musicisti fantastici, tipo Franco Cerri, Renato Sellani, Gianni Basso, e cose più recenti. Ascoltatevi, Carpe Diem del Paolo Fresu Devil Quartet, un disco di pochi anni fa, dove io suono tutto il disco solo con le spazzole. E qualcuno dirà, mamma mia che du maroon, che du ball. Ma no, du ball un cazzo, mica suono solo ballad. In quel disco lì suoniamo di tutto, suoniamo swing, free, rock, funk, sambe. Con le spazzole spacco tutto, con le spazzole si può suonare tutto. È stata una bella sfida quel disco, a livello di dinamiche, da zero a mille, mi sono distrutto le braccia. Poi figurate che abbiamo fatto anche un tour di presentazione di quel disco, che è durato sette mesi praticamente, e io andavo in giro solo con le spazzole, è fantastico. i dischi del mio trio, Wikiz Trio, e poi, vabbè, insomma, ho fatto un bel po' di roba anch'io. Basta, mi fermo qui, e buona ricerca. Ciao ciao, ciao Christian.